La nuova trasmissione RV Shift 20 più 16 offre all'operatore un'esperienza di guida unica e full power shift. La parola chiave è semplicità d'uso. Questa trasmissione è dotata di 20 marci avanti e 16 retromarcia. La velocità massima è di 50 km orari che si raggiunge a 1910 giri motore. Per cambiare marcia è sufficiente spingere avanti o indietro il joystick della trasmissione. Se si vuole evitare di cambiare tutte le marce è possibile effettuare dei salti marcia muovendo contemporaneamente il joystick e premendo il consenso. In questo modo sarà possibile saltare da 2 a 5 marce alla volta in entrambi i sensi di marcia. Per chi invece vuole lasciare al trattore la gestione completa della trasmissione abbiamo predisposto il pulsante APS. Premendolo ci sarà il passaggio traumatico tra le diverse marce in funzione dei giri motore, della velocità veicolo e del carico rilevato. Un apposito potenziometro digitale all'interno dell'Info Center Pro permetterà di impostare le reazioni del trattore più aggressive o più confortevoli. In questa trasmissione sono disponibili due modalità lavoro e trasporto per ciascuna delle quali è possibile se si vuole impostare la marcia di partenza e il range di marce entro le quali il trattore si deve muovere. La trasmissione è dotata inoltre di due gamme normale e dividuti con quest'ultima che offre una forza di trazione di circa il doppio rispetto alla normale. Il passaggio tra le due gamme avviene automaticamente in base al carico ma l'operatore ha la possibilità di forzare l'uso della gamma dividuti tramite comando dedicato. In opzione è disponibile la funzione Creeper che permette di scegliere una velocità di lavoro da 0,02 a 5 km orari come se fosse un trattore a variazione continua. Siamo gli unici a offrire questa caratteristica sul mercato.